Un saluto ben ritrovati come state, buona giornata, buona serata a seconda di quando vedete questo video Vi ricordo come sempre di iscrivervi sul logo AL, siamo ormai 10.000, tanti tanti tanti, parliamo di tutto in questo canale Lasciate un like, commentate e prima di partire volevo far vedere la maglietta che mi è stata inviata di Maldini Guardate, con insomma la motta, maglietta di una stagione di tanti anni fa Ne trovate diverse, se vi va qui sotto vi metto il link con il codice L Avete insomma una serie di promozioni entro qualche giorno Quindi se vi va andate a fare un giro e scegliete quello che volete Se vi va qui sotto vi metto il link appunto Allora, la notizia riguarda l'Inter, Inter che ha necessità di vendere Attenzione perché il Chelsea si sta muovendo non tanto per gennaio ma per giugno Su Denzel Dumfries, giocatore che reduce da un mondiale di luce e ombre Nel senso che aveva fatto un'ottima partita con goal e assist Altre così così Però insomma si è messo comunque in vetrina Il Chelsea si sta muovendo, lo vorrebbe per la prossima estate La pimenta, suo agente, detto speriamo che la valutazione non sia troppo alta Altrimenti faccio fatica a spostarlo Però ecco, è lui l'indiziato partire in estate Con l'Inter che vorrebbe 60 milioni Perché necessita di fare cassa Sinceramente 60 milioni per Dumfries mi sembrano davvero molto Molti, troppi Vediamo che cosa succede L'Inter a quel punto pensa a Singo del Torino Come possibile sostituto di fronte a una probabile partenza di Dumfries Che ha delle offerte dall'Inghilterra su tutte in questo momento il Chelsea Ditemi che cosa ne pensate Vi ricordo appunto di iscrivervi sul logo AL Di commentare E se vi va andate a vedere appunto qui sotto il link che vi metto con il codice AL Chiudo con la maglia di Maldini Eccola qui Stagione dello Scudetto Un abbraccio a tutti E a prestissimo Sempre qui Buone feste a tutti Ciao Promozione per qualche giorno